Luca Zaia sarà votato anche da parecchi elettori di sinistra che non vanno dall'estetista e che non si riconoscono nella Moretti, quindi io sono contento di avere Luca Zaia a disposizione. Mi spiace per chi non lo sosterà, scelta libera, legittima, che mette chiunque non sostenga Luca Zaia fuori dalla Lega, ma d'altronde si amica a costringere nessuno a fare qualcosa contro voglia.